Nata come istituto nel 1942, la Commissione Edilizia del Comune di Fano non esiste più. Già nel 2001 una modifica normativa aveva abolito l'obbligo di avere questo organismo, che ha sempre avuto una funzione di tipo consultivo nei confronti del dirigente. La Commissione, oltre a comportare un costo di quasi 5.000 euro l'anno, allungava i tempi per l'esame delle concessioni edilizie, moltiplicando quindi anche le pratiche burocratiche. Sentito anche chiaramente lo staff tecnico del settore urbanistica, abbiamo appunto ritenuto opportuno, in questa linea di semplificazione e di accorciamento delle procedure, di procedere all'eliminazione della Commissione Edilizia, che comunque aveva ben operato, ma può essere anche abolita. Però il ruolo che svolgeva questa Commissione può essere adempiuto da altri qua all'interno del Comune? Sicuramente lo staff tecnico è in grado di valutare sotto il profilo architettonico e sotto gli altri profili quello che poteva valutare anche come supporto aggiuntivo la Commissione Edilizia. Viene mantenuta invece la Commissione del Paesaggio, che controlla e concede il nulla osta ai progetti inerenti alle zone sottoposte a vincolo.